Non intenditore di calcio come Ciuffi e Saturni, sono un tifoso e quindi quello che posso essere contento io è che nelle puntate scorse avevo detto che su Jovetic alla fine sarebbero state tutte chiacchiere e infatti così si sta dimostrando alla fine. Il fatto invece della chiacchiera su Montella mi sembra un po' assurda benché poi alla fine conosco tante persone che praticano il calcio storico è uno sport che si pratica qua a Firenze, è molto caratteristico che io rispetto ma mi sembra che Montella abbia cose ben più importanti da fare in questo momento. Per il resto invece sono molto contento dell'uscita dell'8 giugno alle ore 23 su TVR più e del mio film da me prodotto, Assassino di Sangue, insomma dove hanno partecipato oltre a Salvatore Scaravilli, Elisa Angelica Ceccarelli e anche Mario Ciuffi Mario Ciuffi direi l'attore principale che è stato poi alla fine il protagonista facciamogli un applauso per questo ruolo insolito. Però ti voglio chiedere una cosa velocemente siccome tutti si chiedono questo film è andato in televisione perché non è andato al cinema? Ci sono dei motivi tecnici? Sì. Allora, è un discorso un po' inolungo nel senso che il film era nato per fare un'uscita al cinema poi chiaramente come tutti i film indipendenti uno fa quello che può. Una cosa che mi è molto piaciuta prima che ha detto Saturni è che bisogna credere nei giovani tra virgolette cosa che in ben pochi fanno questo è l'esempio e la tante di quanto una persona poi alla fine è arrivata nella sua vita sia umile nei confronti dei nuovi che poi alla fine per andare avanti nelle cose ci vuole il nuovo questo è importante nessuno ha creduto in questo giovane regista in questo lavoro in questo giovane regista io ci ho creduto e fino a prova contraria posso dire di aver avuto una prima grande soddisfazione perché il film è uscito la gente l'ha visto il riscontro per quello che io so è stato notevolmente buono quindi voglio dare anche un messaggio di forza di speranza ai giovani come me dicendo loro di non arrendersi e andare avanti allora io ho una domanda per i ciufficili che rinunceresti a una scena con Belen per vedere la Fiorentina in Serie A come in Serie A in Serie A la c'è di già no che vinca il campionato scusate perdonatemi avevo capito risponda onestamente lui prima andrebbe a cena con Belen come diceva Mario Fantechi che è stato il più grande tifoso di tutti i tempi a quei tempi gli domandavano rinunceresti Fantechi a uno scudetto di una notte con Sofia Loren allora volevo dire si vorrebbe affa' tutti e due no? e beh non avevo dubbi eh anzi però un dubbio ce l'avevo bene basta basta anche se il calcio non è tanto però una domanda la vuoi fare Ciuffi sì certamente a parte io ho un passato di arbitra da calcio però sono sincera è una settimana che non ho guardato le partite perdonatemi io vorrei sapere eh se faresti delle dei cambi di tattica calcisti ti ho fatto una domanda un po' pesante c'è la Fiorentina sì cambi di tattica ora chi si parla è Montella farà il 4-3-3 perché lui manterrà forse Cerci e questa è già una cosa per me abbastanza importante che rimane Cerci e cambio di tattica andiamo a vedere l'idea di questo ragazzo perché è un giovane allenatore ha fatto bene i pochi mesi nella Roma e ha fatto bene anche a Catania io penso il 4-3-3 è quello più adatto e lui fa un gioco d'attacco tipo d'attacco non come Zema ma insomma vicino io spero che almeno un po' ci si diverta perché anche se non si vince almeno si faccia delle partite degne di questo nome che quest'anno ce ne è stata da vedere manca l'attacco però ciuffi e gli hanno comprato l'attacco tanto il marocchino lo comprano e lui doveva pigliare la domanda Zia 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 Mordini e Savelli giù e Ascune cosa Saturni quel lavoro l'è un'istarretto nulla sembra madonna è impazziticcio come il mio ma che tu dici quando Zia dice una cosa è sempre un doppio lui l'ha detto certo che fra tutti i trapianti che l'hanno fatto e lo più bello l'hanno fatto come mai? eh perché non c'hanno tempo allora Jonathan si dice queste cose facezie facezie siccome hai detto che diciamo in campo cinematografico nessuno ti ha dato una mano esatto hai in mente qualcosa di nuovo esatto fare un film che c'è sta tratta o mi metti sulla seggi una rotanda che sta tratta ha fatto il commissario Giordano la prossima volta metto un paralitio lui fa e vediamo paralitio ma che ore io il ruolo più bello per i ciuffi e il prossimo film che avrei in mente appunto siamo a parlare di Fiorentina ma qualcuno ma lo vuoi produrre un film su questa squadra che ha tanta storia potrebbe essere i ciuffi l'allenatore che fa un miracolo come Buffy e questa squadra improvvisamente diventa la numero uno sarebbe meraviglioso questo film sarebbe davvero molto bella come idea spero che qualcuno la colga laggiù e vabbè detto questo insomma spero comunque che Assassino di Sangue io ho un animo thriller porterà a fare nuovi thriller in ogni caso eccoci per il momento invece sto progettando una mostra di pittura io dipingo anche che inizierà il 15 di settembre al Bar Sangallo in Piazza della Libertà nel frattempo sto anche producendo un cd coproducendo per la verità con appunto Stefania Ugi e Five Sands abbiamo già inciso due pezzi ma ancora la strada è lunghina poi staremo a vedere tenete di conto questo film sulla Fiorentina con i ciuffi allenatori con lo schema a far falla a far falla go là avventa un'altra ciuffa allenatori il 5-5-5 vince sempre il microfono come si chiama Banfi nei film Oronzo Hanà ora io mi scuso quando ho parlato della carrozzella ho detto una frase però ci manca Aristotele e ho detto un'altra cosa quindi mi scuso dicevo quello che ha detto lui ho detto bene a quei signori perché Ciuffi a Firenze è un po' amato da tutti è un riferimento il fiorentino lo cerca a Rai 1 quindi secondo me sarebbe uno scoop per fare allenatore Ciuffi con il 5-5-5 buonasera a tutti produttori, finanziatori fatevi avanti per questo film con Mario Ciuffi sulla Fiorentina bene allora c'è la vota Sabina vuoi salutare? dai il microfono a Sabina buonasera a tutti Saturni fa un discorso per il saluto dai no ho già detto mi sembra che vuoi stare un imbocca al lupo mi è spiaciuto Mordini perché lo volevo sfidare stasera lui lui ha tanti argomenti Mordini è rimasto fra le cosce della Cina io stasera avevo portato il mio biglietchino ma non è stato possibile dagli il microfono a lei dagli il microfono a lei un attimo prendo quello del Ciuffi puoi salutare? saluto tutti forza Viola bene la nostra Stefania di qua io saluto tutti vi ringrazio dico solo guardate il film di Jonathan che è l'inni assassino di sangue grazie vai Matteo saluto tutti